Una casentinese con il piacere della scrittura ed è una scrittura che ci riconduce naturalmente al nostro casentino, tra l'altro con dei momenti anche importanti. Uno è Dante che abbiamo vissuto lo scorso anno ma che tu naturalmente ci hai donato in questo anno particolare. Poi l'enigma anche del coronavirus che quindi ti ha legato molto a questo nostro territorio ma anche al momento attualizzandolo sempre di più. E poi naturalmente quella che è la donna. Come nascono questi tre libri? La trilogia l'ho definita postuma perché ho trovato il filo rosso che le collega che è la violenza psicologica. Quindi sono partita dalla violenza psicologica, in questo caso di genere, però poi è la violenza psicologica a qualsiasi essere umano e non solo, fino ad arrivare alla violenza psicologica diciamo anche all'umanità, fino all'uomo politico Dante che è stato costretto all'esilo da Firenze, dalla sua amata Firenze e andare a Ramingo per vent'anni senza più rivedere Firenze. Martedì d'autore, martedì con la lettura, la scoperta di scrittori e la scoperta anche di libri. Questa sera si conclude questo ciclo per poi riprendere sicuramente a settembre, però dobbiamo dire anche tanta soddisfazione per aver dato spazio e aver fatto conoscere. Sì, sono stati quattro martedì d'autore molto interessanti, molto differenti, abbiamo avuto due autori del Casentino e due autori Aretini. Che dire, cerchiamo di portare in piazza un po' di cultura, di far avvicinare le persone a questi argomenti che sono un po' di nicchia, che ormai la lettura sappiamo che non è che va per la maggiore, però specialmente in questo periodo di vacanze sotto l'ombrellone, avere un bel libro è sempre una cosa positiva e alla portata di tutti. E quindi cerchiamo di promuovere i nostri autori locali proprio per far sì che vengano conosciuti e che possano anche vendere qualche libro in più ai nostri villeggianti. Giulio Locatelli, a settembre si ricomincia? A settembre si ricomincia, avremo, non faccio diciamo, non spoiler il finale, i nomi, però posso dire che sono due ultimi appuntamenti. Il secondo e quarto martedì di settembre ci sarà uno scrittore casentinese e una scrittrice di Arezzo e due appuntamenti molto particolari, molto importanti, due libri molto diversi, ma sicuramente che meritano l'attenzione. Una casentinese con il piacere della scrittura. Ed è una scrittura che ci riconduce naturalmente al nostro casentino, tra l'altro con dei momenti anche importanti. Uno è Dante, che abbiamo vissuto lo scorso anno, ma che tu naturalmente ci hai donato in questo anno particolare. Poi l'enigma anche del coronavirus, che quindi ti ha legato molto a questo nostro territorio, ma anche al momento attualizzandolo sempre di più. E poi naturalmente quella che è la donna. Ecco, Simona, come nasce intanto questa passione proprio per la scrittura, ma soprattutto come nascono questi tre libri? È una trilogia, se vogliamo. Sì, allora, la trilogia l'ho definita postuma, perché quando ho iniziato a scrivere il primo libro, nel 2019, La donna senza età ha dato aiuto per le donne, non avevo previsto poi di scrivere altri due. Cioè, quello di Dante già stavo scrivendo, però poi il secondo nel mezzo non l'avevo previsto. E quindi l'ho fatta postuma perché ho trovato il filo rosso che le collega, che è la violenza psicologica. Quindi sono partita dalla violenza psicologica, in questo caso di genere, però poi è la violenza psicologica a qualsiasi essere umano e non solo, fino ad arrivare alla violenza psicologica, diciamo anche all'umanità, fino all'uomo politico Dante, che è stato costretto all'esilo da Firenze, dalla sua amata Firenze, e andare a Ramingo per vent'anni, senza più rivedere Firenze. E questo filo rosso è collegato proprio in questa maniera, però ho voluto trovare un monito finale di Dante Alighieri, che è quello di elevare la propria coscienza tramite la canoscenza, cioè la conoscenza soprattutto su se stessi, per riuscire a rivedere le stelle, che le stelle è la parola con cui termina tutte e tre le cantiche, sia l'inferno che il purgatorio e il paradiso. Hai presentato in molti luoghi proprio questa trilogia, questi tre volumi. Io ho fatto una cosa un po' particolare perché ho fatto la transumanza al contrario, cioè io ho iniziato quest'anno l'8 luglio Maremma e invece di fare la transumanza dal Casentino alla Maremma l'ho fatta dalla Maremma al Casentino. Praticamente a me mi lega molto la Maremma perché molte cose che ho scritto l'ho scritta in Maremma, per esempio il coronavirus, la parte del coronavirus molto l'ho scritta in Maremma, poi il primo libro è stato pubblicato da un'associazione culturale Polis 2001 di Grosseto, e Dante alcune cose l'ho scritta anche in Maremma, sì. E il 7 luglio di quest'anno in Maremma ho avuto l'ispirazione per iniziare, ho scritto la premessa del prossimo libro che sarà sull'energia femminile, e la premessa l'ho iniziata a scriverla in Maremma. Senti Massimo, è molto bello questo connubio tra la Maremma e la nostra Toscana, il nostro Casentino, perché tante persone oggi si ritrovano insieme con delle compagnie di vita o che sono dall'uno o dall'altra parte, ma che li ha legati veramente sempre, no? Un filo, non è un filo rosso, ma è un filo forse dell'amore, che è diverso in questo caso. Però ecco, la donna sempre al centro delle tue attenzioni per quanto riguarda la scrittura? Sì, come ho detto poco fa alla presentazione, praticamente io sono partita dalle notizie di cronaca nera sul femminicidio e ho iniziato a cercare di voler capire perché succedono queste cose, perché il femminicidio succede all'interno del proprio ambito familiare, e quindi cercare di capire il perché. E quindi sono andata a scavare, diciamo così, nella psicologia umana, io sono un'archeologa e quindi ho scavato non solo nella terra, ma proprio nei meandri della psicologia umana, per cercare di capire cosa sottende a tutto questo. E la mia spiegazione è probabilmente la violenza psicologica. Quando si inizia a dire che succedono queste cose per gelosia, non è gelosia, è un'altra cosa, perché la donna è vista come oggetto, e quando quell'oggetto è disfunzionale e non è più adatto a quella persona, viene distrutto. Sto pensando che tu, proprio come archeologa che stai scavando in questi casi, se ti è mai venuto in mente proprio di scrivere un libro che vada ancora più indietro rispetto a Dante, quindi ritornando ancora più indietro e guardare questa società come è cambiata, da come era prima a come è oggi. Sì, il libro su cui sto raccogliendo materiale e documentazione dal 2018, quello che è sull'energia femminile, è un libro che parte dall'archeologia, tutti i manufatti, tutti non posso dire perché più cerco, più scavo e più le trovo, e diventerebbe veramente un libro, un trattato, e non voglio fare un trattato, voglio fare un lavoro che è divulgativo, che lo può leggere chiunque, anche chi non è archeologo, quindi praticamente sto ricercando i siti archeologici, manufatti antichi, legati ai riti connessi alla figura femminile. E la mia idea, ho già vinto quest'anno un concorso letterario sul zunto, diciamo così, un po' sul libro, e la mia idea è tirare fuori tutto quello che era legato all'energia femminile. L'anno scorso ho fatto un viaggio di quasi un mese in Sardegna, andando a scoprire un po' i siti archeologici legati alla visione della Dea Madre, e ho scoperto cose profonde, ho trovato veramente anche una scoperta archeologica, ho fatto che l'archeologa Sarda ha detto non l'hanno vista in 40 anni, io ho visto un'incisione rupestre, e praticamente in questo libro dovrò scrivere queste cose, e in quel viaggio l'anno scorso ho capito tante cose, che non è solo l'energia femminile, c'è qualcosa di più, e quindi farò un percorso fino ai giorni nostri, voglio analizzare perché stanno succedendo tante cose anche ora, ai giorni nostri legati sia alla donna, ma non è solo legato alla donna, è proprio sull'energia femminile e anche l'energia maschile. Paolo Domini, Assessore alla Cultura del Comune di Subbiano, oggi si chiude una prima parte di questi appuntamenti dedicati alla lettura, il libro naturalmente è sempre di interesse da parte dell'amministrazione comunale, la cornucopia portato in piazza è scesa per far conoscere libri e autori. Sì, è una bella esperienza quella che abbiamo vissuto, che ancora non è terminata, si interrompe solo per il mese di agosto, esperienza di portare autori direttamente del nostro territorio, dei nostri territori qua, a parlare delle proprie opere e soprattutto andare a fare anche una ricerca introspettiva un po' su quello che gli autori intendono trasmetterci. Infatti qui con Giulio che spesso dà questo stimolo all'autore, per cercare di tirar fuori tutto quello che è la sensazione che sono poi alla base del libro e dell'opera che hanno realizzato. Quindi vederla anche sotto un altro aspetto, in una situazione sicuramente familiare come questa della piazzetta di Santa Maria della Visitazione, che si presta molto appunto a eventi come di questo tipo qui e che chiaramente ci vedrà nuovamente in questi luoghi anche nel mese di settembre. Quindi io non posso far altro che ringraziare chiaramente la Cornucopia per poter continuare ancora a portare l'arte in tutte le sue forme a Subbiano e poterlo fare anche con un percorso letterario che esce dai canoni standard e vai nelle piazze, quindi nelle piazze, nei luoghi dove la gente si ritrova, dove la gente fa piacere di potersi andare in qualche sera d'estate per poter far sì di ascoltare qualcosa di piacevole e c'è sempre qualcosa da imparare.